ciao a tutti questa sera al circolo magnolia per il festival mito le sonorità indie rock dei perfume genius e per commentare la nostra musica ricordatevi che l'hashtag è che mito mi ha praticamente quasi fatto piangere nel senso davvero stato fantastico io condivido a pieno un'esperienza bellissima anche molto umile direi pronto a offrirsi al pubblico questo non è sempre scontato una bella serata piacevole una piacevole scoperta è bravo etereo leggero però anche molto intimo intenso metodo raffinato una bella presenza mi è piaciuto grazie 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 grazie